Nel 2018 il 60% delle imprese toscane ha messo in programma l'assunzione di almeno un dipendente per una programmazione che a livello regionale ammonta a 303.140 unità a fronte dei 4.554.000 a livello nazionale, in particolare nei settori digitale e della green economy. Lo rivela il rapporto Excelsior di Union Camera, presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze, dati che rivelano un paradosso, imprese che nel 28% dei casi faticano a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno e giovani, soprattutto ragazze, che cercano lavoro e non trovano un impiego coerente con il loro titolo di studio. Noi stiamo lavorando come Regione Toscana e oggi è una tappa di questo percorso proprio per favorire delle alleanze formative che partano dal dialogo fra mondo del lavoro e mondo della formazione in senso lato e anche l'università perché si possano questi due mondi non solo incontrare nel definire che cosa serve ma anche incontrare nella coprogettazione degli interventi. Le difficoltà di reperimento di figure professionali toccano il 43,6% per le professioni scientifiche altamente specializzate, il 39% per gli operai specializzati e la provincia più complicata è Firenze dove un'assunzione su tre è di difficile reperimento. Bisogna teoricamente lavorare su un programma di studi di formazione puntuale, quindi scuole di secondo livello che riescono a portare a compimento la professione, a breve e lo dico per chi ci ascolta, volontà e voglia di imparare una professione che sia quella che oggi le imprese vogliono e alle imprese uno sforzo maggiore per accettare anche qualcosa di più acerbo e formarsi un po' all'inizio di un percorso e magari possono fare loro anche se non è proprio perfetto. I settori con le migliori previsioni di assunzione sono la ristorazione e i servizi turistici, le lauree che offrono maggiori possibilità sono quelle nei settori ingegneristico ed economico.